Hello girls! Allora, mia mamma mi ha regalato questa borsa di adulti. Ora vi faccio vedere che c'è all'interno. E poi c'è una zip che sembra una caramella. Allora, c'è questo borsellino per i trucchi che mi ha regalato. Allora, alcune cose mi le ha regalate lei, mentre questo braccio e questa collana già ce li avevo. E li ho aggiunti. Poi mamma mi ha regalato questa cosa delle sopracciglia che era suo. E poi c'è una lima per le unghie. Bellissima, è l'uccicante nero, è come il preferito di mia madre. E poi questa spazzola, la principessa preferita di mia madre. È come una palette per i trucchi, solo che invece del trucco qua c'è la spazzola. Se ci spazzola, vuoi dire, guarda allo specchio, si chiude la spazzola e così. Mi sono piaciute queste cose? Non hai nient'altro nella borsa? Ah, il portafoglio era di mia madre, però me l'ha regalato, lo desideravo da tanto. Si apre così. E ci sono le monetine, vabbè, non c'è bisogno che le fai vedere, tutti conoscono le monetine. Poi, hai qualcos'altro? È cose mie. Allora, vabbè. Veloce. La custodia dei miei occhiali, perché, come vedete ce li ho. Aspetta, altre cose nelle altre zip, uno sbocchi nero. Dai, mamma, sono due minuti già. A voi vi piacciono queste cose? A me sì. Poi lo giri e lo fai vedere bene, lo zaino, quando hai finito di fare vedere le cose dentro. Certo. Poi i fazzoletti, non si sa mai. Certo. E poi un portasalviette, che però è al lattino unicorno, non me lo aspettavo. Ci sono le salviettine imbevute dentro? No. Sì, sono quelle imbevute, si chiamano. Ah. Così dove? Ok. Fai vedere lo zainetto, così stacchiamo. Aspetta, che devo chiudere la scelta. Dai. Sembra proprio dei grandi. Eh sì, ti è piaciuto? Se vi è piaciuto, continuate a seguire il canale di mia mamma. Ciao.